Sono contentissimo della serata, anche questa è stata una grandissima serata, veramente non ci aspettavamo così tanta gente, le ragazze sono state bravissime, una sfilata veramente di gran classe, la seconda edizione è ancora migliore della prima, speriamo di fare meglio l'anno prossimo, veramente contentissimo per tutto e vi aspettiamo il 2 settembre per la prova del pesto. Guarda, ha detto praticamente tutto Jimmy, io devo dire che questo pennellone come lo chiamo io si presta per fare queste serate in maniera impeccabile perché la bellezza stessa di questo molo ci permette di fare delle cose carine, le ragazze poi come sempre ci sono superate perché durante le prove magari sono svogliate però poi quando c'è da fare sul serio tirano fuori gli attributi e mi fanno felice. Detto questo auguro alle ragazze che erano qui, che sono già pronte con le valigie a casa per partire per Iesolo che non tornino troppo presto, anzi che rimangano lì almeno fino all'11 di settembre. Grazie! Grazie!